Piccolo modesto omaggio a due grandi artisti che purtroppo non ci sono più, Gigi Sabani ed Enzo D'Ortora. Se piove e non hai l'ombrello, dai retta a me, stai a casa e guarda Portobello. Scusate, ho dovuto schiarire la voce, voglio fare una breve ma ficcante parere sul nuovo Portobello. Condotto da Antonella Clerici. Purtroppo manca l'ispirazione del mattatore quale io ero e quindi 8540, il centralone della mitica René Longarini. E poi manca sicuramente qualcuno capace di far parlare il pepegallo. Io ci sono riuscito con la famosa attrice di teatro Paola Berboni. Antonella ancora non è riuscita, ma sicuramente dopo la terza puntata il programma sarà chiuso. Quindi a questo punto non mi rimane che concludere con la mia frase di rito. Big Ben è detto stop! Ciao! 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 Ciao!